Alla biblioteca Annalisa Durante di Forcella, luogo dedicato alla giovane vittima innocente di Camorra uccisa nel 2004, dove si svolgono attività didattiche e culturali, all'insegna della legalità, è stato presentato il libro Una Fimmina Calabrese di Paolo De Chiara. Questa nuova opera racconta la storia di Lea Garofalo, testimone di giustizia e vittima innocente della drangheta. Nel corso dell'evento l'autore ha dialogato con la giornalista e scrittice Giuliana Covella, con il presidente dell'associazione Annalisa Durante, Giuseppe Perna, presente anche il papà di Annalisa, Giovanni Durante. Negli atti ufficiali, Lea Garofalo, oggi ancora rientra tre collaboratori di giustizia. Questa è una stortura di questo Stato che, quando questa donna era in mita, non l'ha saputa proteggere, non l'ha protetta e l'ha mandata a morire a Milano senza alcuna protezione. Però il messaggio travolgente, il messaggio importante di questa donna è uno soltanto. Lei da sola, con una figlia piccola, è riuscita a far condannare, a mandare all'ergastolo gli aguzzini, gli assassini, i suoi assassini. Ed è un esempio, è una speranza per farci comprendere che è possibile mettere i bastoni tra le ruote a queste schifose organizzazioni criminali. Sto affrontando questo cambiamento della città, il cambiamento di tutti questi ragazzi che stanno entrando qui dentro. È una grandissima biblioteca che sta aumentando, arrivano libri da tutta l'Italia. Stasera mi fa piacere che è arrivata un'altra persona da fuori che presenta questo libro.